Siamo davanti alla postazione dell'azienda Luca Ricci, produttore della zona di Collalto di Susegana, quindi zona soprattutto dedicata alla produzione del prosecco, però Luca tiene molto la produzione di vini rossi, è la sua passione, produce 4 vini rossi di cui 2 in edizione abbastanza consistente, 5.000 bottiglie di Merlot che si chiama Bausk e 10.000 bottiglie di Salariato che è il vino che sto assaggiando in questo momento. L'azienda opera un'agricoltura molto sensibile, sostenibile, si sta attenti a non inquinare, i trattamenti antifungini non lasciano residui nel vino, quindi c'è molta attenzione anche a questo. Con il bicchiere ho il Salariato, il Salariato è il tipico taglio bordolese per chi conosce il gergo del vino, in pratica del Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, prende il nome da Bordeaux dove si usano normalmente queste uve per fare il vino. Un bellissimo profumo speziato, spezie varie, pepe, cannella, la frutta che si sente al naso fa riferimento a ciliegia e prugna scura, o meglio susina, il profumo è molto intenso. Coerente in bocca, ripete gli stessi descrittori dell'olfatto, vino con una buona energia, abbastanza intenso, ha un buon allungo e chiude con molta personalità. Una bellissima versione di vino. Il vino che vado ad assaggiare adesso si chiama Bausk, che nel dialetto locale di Collalto di Susegana significa fascina di tralci di vite, cioè in pratica la fascina che resta dopo la potatura. Una volta veniva usata per far fuoco e quindi per far da mangiare. Questo è un merlot in purezza, le uve sono solo merlot, la resa per ceppo di vite è di circa 700 grammi, quindi 6-7 grappoli. C'è una selezione molto attenta per ottenere della grande uva e quindi di conseguenza un grande vino. L'annata che sto assaggiando è 2006 ed è un'eccellente annata. Il vino è stato affinato in legno fino all'anno scorso, poi è stato messo in bottiglia per un periodo in cui si smussa e si affina. Adesso assaggiarlo. Ha i profumi caratteristici dei merlot che si ritrovano in tutti i merlot del mondo, normalmente si sono fatti bene, quindi prugna, lampone, fragola, ciliegia molto matura. In bocca gli stessi profumi del naso, molto intenso. C'è anche un riferimento alle spezie, specialmente a tabacco biondo e a corteccia di liquirizia, la peluria che c'è attorno al bastoncino. Un vino di grande personalità ma soprattutto di grande finezza, come deve essere un grande merlot.